benvenuti due lati sono marco degli icecraft e benvenuti qui ad un nuovo video quindi prima di iniziare ragazzi vi ricordo lasciare un like sulla fiducia e sulla simpatia mentre per chi è iscritto che per chi non è iscritto l'invito ad iscriversi al canale attivare la campanellina ragazzi adesso passiamo comunque al deck mi farò vedere qui ragazzi allora questo è il deck che sto utilizzando per evocare come potete capire lui numero 92 drago earth earth quindi questo è come l'ho voluta combinare io per ripararmi un pochettino utilizzando l'attività zexer ultimative un'attività molto forte anzi ragazzi vi invito che comunque sto utilizzando questa abilità con un deck comunque senza aprire lo start of deck devo dire che tutto sta funzionando quindi ragazzi a maggior ragione invita di iscrivervi e attivare la campanellina per non perdervi quest'altra novità quindi ragazzi questo è il deck niente di competitivo comunque perché mi interessava solo evocare il drago in realtà con questa combo possiamo anche bene o male utilizzarla per altri mostri ma noi non ce ne frega tantissimo quindi passiamo subito all'unico replay disponibile eccoci qui ragazzi il nostro amico atem amico modo di dire ovviamente ragazzi non è un combattimento organizzato senza carte è stato l'unico che ho trovato praticamente ho girato un po nelle sale dei duelli per poter fare qualcosa di per poter mettere giù questo mozzo solo per il piacere in realtà di evocarlo ok uno posiziono coperto cerco di difendermi più che altro lo copro libro della luna ragazzi non posso buttare nemmeno la sorella gagaga comunque va bene ok va bene si attiva l'animazione tutto molto bello risorgiamo la carta coperta va bene ok io lo tolgo tanto per non avere ulteriori problemi niente ragazzi in mano comunque va bene si mette bacchetta dell'occhio non è proprio in porta andiamo avanti ragazzi andiamo 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 giù per la nostra combo dai su e niente ragazzi qui sbritta un pochettino non è proprio in porta alla fine vaffanbani acceleriamo un pochettino andiamo un po di sale allora ok ancora niente mi interessa era solo buttare il drago e non fare altre combo più interessanti perché non mi interessava volevo solo due ragazzi ok ci siamo ci siamo ragazzi passiamo a livello 7 passiamo a 9 evochiamo bambino gagaga che poi addirittura per questo turno non possiamo nemmeno attaccare comunque andiamo giù con il nostro drago 92 ragazzi numero 92 eccolo qui gli mandiamo un mostro tanto per attivare l'effetto e cominciamo a prendere giù danni così attacchiamo prendiamo danni ecco lui attacca in perteriton tranquillo forse per attivare abita a pesca del destino non saprei comunque noi ora ci diamo in questa maniera e abbiamo fatto qui il nostro drago earth comunque drago ragazzi ora è molto difficile da mettere giù devo dire la verità comunque ragazzi noi è stato divertente l'abbiamo mostrato l'abbiamo messo sul campo quindi che dire quindi spero che magari questo video simpatico veloce leggero vi sia piaciuto sia stato un bel come dire spuntino poi meridiano detto questo ragazzi noi ci vediamo ad un prossimo video e vi ringrazio a tutti quanti